Si parte. Da domani abbiamo una coalizione, abbiamo un candidato, possiamo lavorare allacremente su un programma e su quel programma il PD vorrà dire fortemente la sua e il dibattito oggi lo ha chiarito. Però ha anche chiarito che, come dire, ci siamo, che il percorso fatto può continuare e che abbiamo creato le condizioni perché il PD possa essere nella partita. Questo era il dato più importante per il quale ho ringraziato tutti. Ho ringraziato, non per l'assenso, non c'è stato un assenso a me, c'è stata un'assunzione di responsabilità importante e una grande qualità del dibattito. Io sono contento di questo. Ma non ho mai avuto dubbi che il PD fosse un partito plurale con tante ricchezze, con potenziali candidati, con idee diverse, con proiezioni diverse, con dialoghi e interlocuzioni con la società articolate. Questa è una ricchezza. Il fatto che noi cerchiamo la coalizione non è certo perché ci manca al nostro interno la pluralità del dibattito. Il problema è che la coalizione, della quale crediamo di essere al centro, e di essere dei promotori ci consente, come dire, di portare questa nostra ricchezza al centro del dibattito e del confronto elettorale e quindi essere competitivi per quello che siamo come coalizione, ma tanto, tanto anche per quello che siamo come PD.